Sversamenti illeciti di rifiuti in continua diminuzione a Sarno. Ad annunciare il dato, con soddisfazione, è il primo cittadino Giuseppe Canfora, un risultato reso possibile grazie alla continua attività di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. In questo fine settimana i controlli del Nucleo Ispettori Ambientali del Comune delle Guardie Giurate dell'Associazione Accademia Cronos hanno interessato le strade del centro ma anche alcune zone periferiche. Tra le zone controllate, località Perillo, via Acqua Rossa, zona Cimitero, prolungamento Matteotti, Corso Umberto I e via San Vito. Fortunatamente da quando abbiamo ancora maggiormente potenziato la rete sui controlli ambientali con dei protocolli d'intesa che vedono protagonisti tanti uomini del parco regionale del fiume Sarno, certamente abbiamo registrato intanto una diminuzione delle attività versatorie che si configurano come reati ma soprattutto vediamo che c'è una più profonda e capillare attenzione contro chi commette reati sull'ambiente. Grazie a tutti.